Il cimitero di Cartecchio, uno dei più antichi e suggestivi della provincia di Teramo, tornerà presto al suo antico splendore. La Giunta Comunale Teramana ha approvato infatti il documento di indirizzo progettuale per gli interventi di riparazione e consolidamento di 5 portici con cappelle e 4 padiglioni lesionati dal terremoto del centro Italia nel 2016-2017. Si tratta di strutture risalenti al primo insediamento cimiteriale che dopo le scosse sono state sottoposte a misure di messa in sicurezza e che ne hanno consentito la riapertura al pubblico. Con il provvedimento varato dunque l'amministrazione avvia la procedura per il pieno recupero e il miglioramento sismico di questi spazi che rappresentano una testimonianza storica, artistica di grande valore. Per realizzare l'intervento il Comune potrà contare su una somma di poco più di 2,5 milioni di euro, messa a disposizione con l'ordinanza firmata a dicembre 2022 dall'allora commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini. I tempi previsti per la realizzazione dell'intervento sono di 9 mesi ma prima bisognerà completare le diverse fasi progettuali rispettando le scadenze fissate dal documento di indirizzo. Entro due mesi dall'affidamento dell'incarico di progettazione andranno consegnati all'ente gli elaborati tecnici necessari all'indizione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri della soprintendenza e degli altri clienti interessati. Entro un altro mese dovrà essere completata la progettazione esecutiva che precederà la gara d'appalto e l'apertura del cantiere. L'intervento dovrà comunque tenere conto di quanto è stato già fatto per la messa in sicurezza e la riapertura ai visitatori di cappelle e padiglioni. Arche e volte sono stati puntellati con l'installazione di un sistema reticolare di tubi destinati a contenere eventuali cedimenti. Infine tra i colonnati sono state posizionate catene di rinforzo strutturale.